di questo giovedì 26 ottobre 2017, immagini in questo, eccole qui le immagini dall'auletta dell'aula Polo VI dove Papa Francesco è in questo collegamento, vediamo ora le immagini che arrivano in diretta dallo spazio e ci auguriamo di poter insieme questo collegamento. Penso che lì nella stazione... Santo Padre questa è una domanda complessa, noi, io mi sento il nostro, il nostro obiettivo qua è quello di conoscere la tua vita per qualcun altro. Mi piace quella risposta, è vero, senza amore...